Sono stati 5 i decessi in provincia di Rimini nell'ultime 24 ore. Il totale dall'inizio dell'epidemia da coronavirus è di 90 persone morte. Proseguono però i segnali di cauto ottimismo riguardo al progredire dell'epidemia. In questa provincia i contagiati, quelli per o meno rilevati dai tamponi, sono circa 1.350. Ebbene, il ritmo con cui questi crescono sta lentamente diminuendo. Se infatti nelle scorse settimane la curva cresceva con un tasso che andava dal 10 al 20%, ebbene nell'ultima settimana è sceso al di sotto del 5%. E un'altra curva molto importante, forse più importante da tenere in considerazione, è quella relativa ai ricoveri, anch'essi in diminuzione. Se tra il 16 e il 24 marzo si avevano dai 20 ai 30 ricoveri giornalieri in provincia di Rimini, ebbene nell'ultima settimana siamo scesi a circa una dozzina. Numeri comunque gravi da emergenza che mettono sotto forte stress il sistema sanitario locale. E poi sul fronte economico c'è chi guarda già al futuro. Il sindaco di Rimini, Andrea Agnassi, ha annunciato l'apertura di una pagina Facebook gestita da Piano Strategico e dal titolo Futuro e remoto Rimini oltre il virus per raccogliere idee sulla ripartenza, perché sbaglia chi pensa che tutto tornerà come prima, afferma Agnassi che dice che il colpo all'industria turistica sarà fortissimo e non dovremo farci trovare impreparati. E lo si percepisce anche da questa mattinata qua, siamo nel cuore di Marina Centro, appunto la zona turistica dove in questa stagione, oltretutto col bel tempo, si vedrebbero già i primi turisti passeggiare bene, vedere le strade con i locali completamente serrati e le vetture, prevalentemente quelle del forzo e dell'ordine circolare, è sicuramente un'esperienza senza precedenti. Per ora da Rimini è tutto, a voi la linea.